Signora, in questo quartiere ha vinto il sì al referendum? Sì, ha vinto il sì, anche io ho votato il sì. Ma perché ha vinto il sì in questo quartiere San Faustino? Perché stiamo bene così noi, perché a noi è piaciuto come è andata, ci piaceva la persona, ci piaceva le idee, è così. Sono nel quartiere San Faustino di Modena, dove il sì al referendum del 4 dicembre in una sezione elettorale ha vinto con il 69,7% dei voti. Perché ha vinto il sì? Perché siamo sostanzialmente in una zona rossa? Guardi, io ho votato no, quindi... Ecco, un quartiere però dove ha votato il sì al 70% questo? Ha votato il sì secondo me perché è radicato il partito democratico qua, cioè la vecchia guardia. Modena si conferma ancora una zona rossa secondo lei? Sì, non rossissima come una volta, forse un po' più rosa, comunque io direi di sì, perlomeno qua la gente la pensava così. A Modena ha vinto il sì al referendum? Ho piacere. Eh, come mai? Guardi, io di politica non me ne intendo, però ho piacere che a Modena abbia vinto. Ecco, ma perché? Perché sono di sinistra. Ho capito. Ho già detto tutto. Eh, io ho votato sì, comunque sì. Io ho votato no. Come mai però in questa zona ha vinto il 70% il sì? Ah, io non lo so il problema, non so il perché, so solo che in effetti io avrei preferito che avesse vinto il sì decisamente. Questa è una zona rossa quindi? Esatto, questa è una zona molto rossa, molto, molto, molto. A me andavano bene, io ho votato sì. E ho detto che se avessero avuto un po' di testa, tanti non votavano no. Ha vinto il sì comunque qua? Eh, qui ha vinto il sì. A livello nazionale ha vinto il no però? Eh, non ha vinto il no, ma qui è una zona così. Questo quartiere ha vinto il sì al referendum? Ha vinto il sì? Ha vinto il sì. Bene, mi fa piacere. Lei cosa ha votato? Sì. Come mai questo quartiere ha vinto il sì? Lo chiedo a quelli che hanno votato sì. Che vuoi che gli indica? Eh, se lei ha votato sì, come mai? Io ho votato sì perché per 50 anni non hanno fatto un cazzo. Sì. Vero? Gli altri governi, adesso che uno vuole cominciare a fare qualcosa, no, perché gli interessa la polterona. Io ho letto, mi sono convinto che era per noi quella legge e non per i politici, però se quando si è votato, si è votato politicamente contro Renzi e basta. Il Modena ha votato sì. Per cui? Diciamo che Modena ha vinto il sì. Eh, però ha vinto il sì ma ha vinto il no. È contato poco quello che ha votato Modena. Io guardavo molto in prospettiva perché secondo me abbiamo bisogno di darci una mossa. Tanta gente è andata lì, bisogna anche sapere quello che effettivamente volesse dire. Poi è inutile parlare, cioè siamo in una zona dove prevale più il cuore verso un certo tipo di partito. Diciamo che ho votato sì perché è una proposta di cambiamento. Hai votato sì? Io ho votato sì e sono convinto di avere votato bene. Al referendum Modena ha vinto il sì. Sono contento. Invece l'Italia no. L'Italia è andata male. Ma lei ha votato sì o no? Io ho votato sì, mi sono sbagliato. Ma diciamo, a livello nazionale ha vinto il no, ma Modena ha vinto il sì. Come legge questo dato lei? Ha vinto anche in Toscana, forse sempre per lo stesso motivo. Però ha vinto anche in 38 anni, che quello è un po' più difficile da comprendere. Avete votato sì o no? Al referendum. No. In questo quartiere ha vinto il sì però? 70% Ah beh, non mi interessa mica, però vinci il no. Non ho votato. Perché non ha votato? Perché per me fanno schifo tutti. Come interpreta lei questo discorso? Che i giovani hanno votato no? I giovani disoccupati hanno votato no? Non ho capito, non ho capito questa. Sinceramente non sono riuscita a capire come mai i giovani hanno votato no. Io me lo aspettavo più dai vecchi. E invece non ho capito. Non sono riuscita a entrare nella testa dei giovani. Comunque secondo lei questa riforma era da fare? La riforma della Costituzione? Per me era da fare. Non si può continuare sempre ad andare avanti nello stesso modo.